A Riete è stato colpito alla fiancata, nessuno a bordo è rimasto ferito, ma alcuni dei dieci marittimi raccontano siamo vivi per miracolo, sparavano per colpire, hanno detto. L'imbarcazione ha puntato prua verso Lampedusa, evitando in questo modo il sequestro da parte dei libici. L'imbarcazione numero 3, 1, 2, 2, 1 degli onorevoli Meccacci ed altri, concernente iniziative per la revisione del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, anche alla luce della recente aggressione subita da un peschereccio italiano all'argo dell'isola di Lampedusa. L'onorevole Meccacci ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Lei, signor Ministro, sa che chi parla è stato fin dall'inizio contrario all'approvazione di questo trattato di cosiddetta amicizia tra Italia e Libia, ma credo che oggi anche chi ha votato a favore debba riconoscere che occorre fare un bilancio di questo trattato, perché i suoi contenuti sono in molti casi profondamente sbagliate. Vede, Ministro, in nome dell'amicizia, domenica scorsa un motopeschereccio italiano è stato mitragliato ed inseguito per ore da una motovedetta guidata da esponenti libici che era stata donata dal Governo italiano e sulla quale stavano dei funzionari italiani che si sono dovuti riparare sotto coperta perché non hanno potuto impedire che si mitragliasse contro dei cittadini del nostro Paese. Allora, Ministro, questo non è solo un incidente, questo è un fatto gravissimo per il nostro Paese perché noi ci siamo impegnati con questo trattato a dare decine di milioni di euro ogni anno e il Ministro Maroni non può dire che li hanno scambiati per dei clandestini perché nessun Ministro di un Paese civile può consentire che solo si immagini la possibilità che si spari nei confronti dei migranti che non sono dei delinquenti molto spesso, ma sono solo persone che chiedono asilo e protezione internazionale. Allora, noi vi chiediamo di provvedere alla revisione di questo trattato, di convocare le vostre contoparti libiche e trovare una soluzione. Grazie, Onorevole Meccacci. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento è a Liovito, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie. Onorevole Meccacci, le rispondo sulla base degli elementi pervenuti dal Ministero degli Esteri ricordando naturalmente che il Ministro Frattini, cui lei ha rivolto l'interrogazione, si è dovuto recare a Zagabrie per un impegno istituzionale precedentemente fissato. Innanzitutto il Ministero rileva che la collaborazione con le autorità libiche nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina e in particolare le operazioni di pattugliamento congiunto sono oggetto di specifiche intese firmate nel 2007 dal Ministro Ramato e nel 2009 dal Ministro Maroni. A queste si aggiunge un protocollo tecnico firmato dal Capo della Polizia il 29 dicembre 2007. La dotazione e la donazione dell'impiego delle motovedette derivano dall'applicazione originaria di suddette intese che prevedono il comando libico e la presenza a bordo di alcune unità di personale italiano. Il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione del 2008 richiama all'articolo 19 l'accordo firmato con la Libia nel 2000 in materia di collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina e, per quanto riguarda specificamente la lotta all'immigrazione clandestina, le successive intese tecniche. Il Trattato dunque non modifica i preesistenti accordi del 2007. L'episodio molto grave che ha visto coinvolto il peschereccio italiano richiederà un forte impegno affinché azioni del genere non si ripetano più. Nessun accordo né alcuna regola di ingaggio consente, infatti, interventi con armi da fuoco verso imbarcazioni pacifiche. D'altra parte, lo stesso comandante libico e subito dopo le autorità di Tripoli, incluso il Ministro degli Esteri, hanno formalmente presentato le loro scuse. In Libia è stata avviata un'inchiesta per chiarire le dinamiche dei fatti ed accertare le responsabilità. In Italia sono in corso l'indagine promossa dal Ministero dell'Interno e l'indagine penale avviata contro ignoti per tentato omicidio dalla magistratura di Agrigento. Il Governo italiano approfondirà con i necessari correttivi che dovessero essere opportuni alle intese tecniche che disciplinano l'operazione di pattugliamento congiunto. Tale approfondimento tecnico è coordinato al Ministero dell'Interno, mentre il Ministero degli Affari Esteri continuerà il serrato dialogo in corso con le autorità libiche che consenta di giungere a intese di interesse per le flotte italiane che svolgono attività di pesca. Fermo restando che il Governo italiano non può concludere con Paesi terzi dell'UE specifici accordi in materia di pesca, essendo questi di competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie. Nei prossimi giorni le tematiche di interesse della flotta di Mazzara del Vallo, di cui il peschereccio a Riete fa parte, saranno oggetto di un approfondimento in seno allo specifico Comitato Tecnico Libico e Italo-Libico in materia di collaborazione nel settore delle risorse marine. In conclusione, le problematiche sull'attuazione del trattato con la Libia, che sono state sollevate anche con la sua interrogazione, potranno essere approfondite ulteriormente nell'audizione che domani stesso si svolgerà presso le commissioni esteri delle Camere riunite. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Meccacci. Sì, grazie Presidente. Lei, Ministro, però sa meglio di me che quegli accordi che lei ha citato non sono entrati in funzione effettivamente fino a quando non è stato ratificato il trattato nel febbraio del 2008. Tant'è che le motovedette sono state consegnate pochi mesi fa e voi siete responsabili di quanto sta avvenendo adesso. Non potete richiamare quanto è avvenuto nel 2007 o nel 2000 perché i libici hanno sparato per la prima volta, per fortuna, solo oggi. In passato hanno sequestrato pescherecci perché tra l'altro la Libia non rispetta il diritto internazionale e impedisce ai pescatori siciliani di pescare nelle acque internazionali del Mediterraneo come avviene per tutti gli altri paesi. Io capisco che, avendo la Lega all'interno del Governo, importino molto i truffatori delle cuore telatte e non importino niente i pescatori di Mazzara del Vallo, ma sono tutti cittadini italiani che rispettano la legge e che hanno bisogno di vedere tutelati i loro diritti. Allora, la contrarietà a questo trattato, signor Ministro, deriva anche dal fatto che voi, vi siete resi complici con le operazioni di rispingimento dei migranti in mare, di violazioni della legge italiana, della Costituzione italiana, l'articolo 10 che chiede la garanzia del diritto d'asilo a chi arriva da paesi dove ci sono carestie o ci sono delle guerre, in questo momento non è rispettato. Voi avete appaltato a Gheddafi la gestione della nostra immigrazione. E per tutta risposta Gheddafi pochi mesi fa ha chiuso l'ufficio dell'alto commissario ONU per i rifugiati. Quindi noi abbiamo decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che non hanno nessuno statuto giuridico in quel paese. Concludo, Presidente, sollecitando però anche una riflessione più generale sulla politica estera del nostro paese. Perché se questi sono i nostri partner privilegiati, se questo Gheddafi, se la Libia, se questo paese che dichiara ogni giorno, che vuole la distruzione dello Stato di Israele, che dichiara la Corte Penale Internazionale un'espressione del terrorismo internazionale, è il principale partner politico dell'Italia, beh, voi state facendo un danno non solo al vostro governo ma a tutto il nostro paese. Sulla vicenda riguardante il mototeschereccio italiano mitralista.